Obbligo di bollitura dell'acqua per usi alimentari nella frazione di Vagna e nelle borgate di Vallesone-Andosso, Prata, Tagliaroli-Sala-Maggianigo-Asparedo-Croppo, Campei-Premone-Zoncalina-Baceno. È quanto stabilisce un'ordinanza emanata dal comune di Domodossola con decorrenza immediata e sino a comunicazione di revoca. Il divieto di utilizzo dell'acqua per scopo alimentare... Live 24 ore su 24